cioè in pratica laggiù ci dovrebbero stare le navi quanta nebbia c'è non si vede nulla guardate laggiù gli alberi manco si vedono impressionante e buongiorno a tutti guardate un po' qua chi c'è? ciao amici no no fa vedere la manina che stai a fa' e niente regà è mattina avete visto di fuori quanta nebbia c'è? ma non è tanto perché mi sono entusiasmata della nebbia ci sono rimasta male perché qualche vita vecchia si vede di molto difficilmente tutta questa nebbia ha coprì completamente il mare e le navi cioè non sono tanto distanti poi ma lo so hanno perché io l'ho sempre fatti vedere le navi stanno qui davanti ce l'abbiamo il mare non si vede niente c'è manco un accenno di nave pensa quanta è fitta laggiù ammo e poi tuttora ancora lo è già sono passate delle ore e niente io sto aspettando cavolo sto aspettando le mie capsule dice che deve arrivare dopo le 10 e sono le 10 in quarto e niente stamattina Giordano deve fare una videochiamata molto importante giusto? si molto importante e se fosse mai ci saranno degli aggiornamenti riguardanti il trapianto quindi speriamo bene speriamo bene speriamo bene che sia una videochiamata piacevole piacevole e niente poi se Giordano lo vorrà ve ne parlerà dopo e poi dopo aggiornerò bene sull'argomento e intanto aspettiamo ste cavolo di capsule perché non vuole massaggiare tutto giusto? no io mi sono appena fatto il caffè bello cremoso buono oddio quello non è uno dei più cremosi però è buono a me mi lascia sempre buon sapore in bocca piacevole vabbè e niente raga pure oggi state con noi wow allora raga noi abbiamo pranzato e stavamo aspettando le capsule prima di farci un caffè mi stavo preparando e eccole cioè guardate che pacco grosso che è e ora giordano ad una duna ce le tirerà fuori mi sa che so un bel po' vai faccio vedere che abbiamo preso vai così fanno subito l'assaggio io sono curioso di saper il caffè com'è e certo io pure voglio saperlo oh belle belle wow wow ma belle belle qui c'è scritto quello che abbiamo preso ok queste presumo siano le stesse ok poi c'è aspetta qui ok questo ma che belle scatole belle oh comunque l'abbiamo preso su nero ristretto queste ok ecco le sono finite ma che belle scatole ma che belle scatole queste sono 80 allora so no 80 caffè 32 32 80 32 32 32 32 ho preso cappuccino alla nocciola cappuccino caramello questo cos'è questo cos'è aspettate 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 questo è maxi shock dovrebbe essere cioccolata calda qua c'è scritto espresso ristretto questo è tutto caffè questo è tutto caffè poi qua aspettate non è finita qui qui abbiamo ginseng dolce e poi scherzo su abbiamo gianduia wow allora ora mi sono arrivate tutte queste bevande buone però essendo dopo pranzo non mi va di farmi il chiccherone di latte perciò che facciamo assaggio di loro il ginseng che Giordano mi disse scusami ma se hai già trovato il ginseng buono perché hai ordinato altro ginseng ha ragione non lo so però vabbè se fosse buono anche questo mi ritrovo comunque 32 capsule visto che quelle che avevamo comprato erano giusto per assaggiare e erano soltanto 15 e questa sera insieme ci faremo qualcosa di buono lo farò questa sera perché adesso ho pranzato e di bermi un bicchierone di latte non mi va un cappuccino caramel o il mix ciocco come si chiama ecco o la cioccolata calda comunque adesso assaggiamo il ginseng ciò danno il caffè vabbè insomma stai dicendo come sono dentro stavo dicendo che le capsule si presentano così in bustine sono caldissime in bustine da vabbè otto capsule sigillate in tutto sono 80 e in tutto sono penso a 10 pacchetti ma speriamo che ti piacciono ma assaggiamo vai assaggio hai fatto tu però le scatole mi piacciono un botto le scatole sono bellissime sono belle 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 bellissime allora io comunque sto a posto per mesi perché le berrò sicuramente tutte io queste perché Giordano non fa uso di belande però se ci sta un cappuccino buono perché no se lo fa come non lo vogliate allora che sta apriamo ok ovviamente sulla capsula non c'è scritto che cosa quante tacche vabbè tu fanno una sulla capsula no no non c'è scritto però che rigonfia vedi come diceva quello del video mhm oh e prendi dici che se sto gonfio vuol dire che sono ben sigillate ok vai prendi questo caffè provato e assaggia e assaggia vedo qua se ci hanno qua certo hanno ci hanno ci hanno ah ma sono tutte da dolce gusto allora vai non c'è niente sotto vedi non si deve levare niente no 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 quello non è sigillato ho sentito come ho fatto si ma dimmi un po' ma fa sempre da uno si da uno lo faccio ok se lo metto qua vabbè intanto fate il caffè dove ci ho pensato a metterli carine ok si nero vado vai wow pure voi scoppietta hai visto? hai visto? no hai visto? perfetto hai visto come devo ferma? perfetto dai che sto curiosa su ma raga c'ho il filanzaro sempre presentato comunque questi capelli così ma ma che sto a preparare lo scemo no? eh scusi ma che sto a preparare lo scemo avevamo la fretta di assaggiare questa cosa però gli assaggia qui dai sono troppo curiosa speriamo che gli piace raga almeno mi sento meno in corpa eh guarda che bella crema guarda che bella crema guarda che bella crema un po' ti aspetta la schermetta è sua dai 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 hai proprio visto il farmaceo vabbè fammi dai amore assaggia mi sapeva una come guardi? buono buono mo dai la verità è più buono di quell'altro il buono della borbone si veramente? no non so contenta raga si o no? quello della borbone te lascia un po' più di crema in bocca però questo è buono è proprio il caffè di casa si? adesso andremo a assaggiare però il ginseng vediamo questo com'è vediamo questi come sono no dai ma che carino sono rosse guarda tutto di colore ecco sono solo due pacchi da eh da 16? 32? si vado eh vado a provare vediamo non ci riusci 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 vediamo ma io non c'ho hai visto se c'è anche i giletti sotto nella sport non ci ha guardato? eh? no non ci sta è insomma scoppia bella si in amore vediamo invece il ginseng come esce sempre da uno? ah qui non c'è scritto niente vabbè si faccio uno pure io dai un giusto passaggio wow oddio oddio non si ferma perfetto 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 vedi che la leggi quindi c'è una lettura c'ha wow ma donna che profumo del ginseng eccola regà voi sapete quanto ci tengo al ginseng che profumo si sente? questo un botto si sente bello questo dal profumo è molto più buono della borbone provo lo della borbone poi quando l'assaggio è buonissimo ora proviamo no amo per favore dai vieni qua dai vieni qua lo so lui si pia il corpo ogni po' amo ti prego ti prego ma io c'ho il sapore del caffè amo è più buono da quello della Glerk l'odore è profumatissimo ma regà questo è più buono della Borbone è più buono madonna che crema che è? ma buonissimo ma buonissimo ma aiuto quello da paura madonna pensate che Giordano mi ha fatto unire i sensi di colpa perché giustamente mi ha detto scusa mi ha trovato il ginseng buono quello lo possiamo prendere anche negozio fisico stai facendo un ordine online prendi tutte le bevande gaiarde cioè gaiarde nel senso strane che non trovi magari al supermercato che non trovi e mi ha fatto senti in colpa perché effettivamente al posto di quelle vado prendere ulteriormente che ne so cappuccino al pistacchio per dire cose strane così e invece ti posso dire ho fatto proprio bene amore buonissimo che avevi il ginseng e poi non so metti il ginseng però buono proprio amore siccome io ho solo due posti preferiti dove prendere il ginseng che sarebbe quello al centro commerciale e al via del corso a Civita Vecchia in un bar che sta lì e mi affido sempre solo a loro per quanto riguarda il ginseng quando invece si tratta di andare in altri bar che non conosco tendo a prendere il marrucchino e non a prendere il ginseng per quanto riguarda il ginseng veramente di cacca che erano imbevibili cioè e a casa a casa e aver trovato due capsule su due diverse che sanno proprio di ginseng ma veramente buono cioè mi riempire il cuore di gioia così finalmente anch'io il pomeriggio posso prendermi una cosa buona perchè io amo il ginseng e non ci vado matta per il caffè eh avevo questi qui della Bialetti è tantissimo che ce l'ho e sono ancora tutte qua a me questo della Bialetti non mi è mai piaciuto assolutamente zero costa pure 5 euro assolutamente zero no non c'è paragono ne provo non c'è vero niente non mi piace l'ho provato con lo zucchero sono proprio contento l'ho provato con lo zucchero l'ho provata c'è anche un goccio di latte a me è imbevibile questo buonissimo sono troppo contenta sono troppo contenta cosa io sono contenta con poco però sono contenta magari per voi che avete sempre avuto la macchinetta a capsule potete pensare ma questa è matta ma si sta a parlare dei capsule e vabbè e ve posso pure capire però io che ho fatto sto e io che mi sono convertita da caffè in polvere questa qui alla capsula cioè bellissimo comunque poche chiacchiere io mi finisco di preparare che usciamo sono contenta bravo dai la vede antimovica che è sempre l'ultimo io sono già bella ripreparata e lui è sempre l'ultimo che schifo io intanto passo il telefonino nella borsa ok via qui io mi sono vestita così il solito maioncino 100 e via oh questi uomini mi stanno sempre a chiamare non possono farne a meno non possono farne a meno di noi donne non possono farne a meno no per chi avesse seguito la cosa che devo provare questa l'ho provata mhm però aspetta sei in buio ok l'ho provata l'ho provata e basta proprio una cosa minima una cosa del genere così ok e te le fai le polvere? ok e gliela fa gliela fattene su eh bella qua il capello è leggermente umido vedi come viene bene? sono già andando non ti ascolta quelli dietro vedi come viene bene? ok si e non lascia residui cioè pochissimi proprio ne lascia io già avevo la gelatina sui capelli sempre questa qua eh prima? c'è i capelli trasandati ma prima prima di mettere eh c'è i capelli trasandati? si si ho dato una leggera umidificata e ora via posso ok ma potremmo andare ce l'ha finito? stasera hai la o basta? eh guarda c'è più niente vedi? bravo 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 amore raccomando raccomandi? si hai maschietti? si si bella ok in più profuma molto ok dopo questi discorsetti questi consigli se ne potevamo andare per fuori si se ne potevamo andare io che devo aspettare sei tu che devi aspettare me no io ho fatto mu sapete cos'è voi? il fatto che lui che io ho finito lo aspetto poi io aspetto lui e adesso mi tocca staccare e andare a fare pipì prima di uscire sempre così fa pipì? eh faccio così vabbè io ce l'ho più sdobre vada a te simpaticone raga autoriunizza su schiavetta dammi dammi vedi martina fa la commessa e mi fa da schiavetta eh dici? lucumbra lucumbra es m niente ms e meglio s s questo mi sta troppo piccolo questo mi sta troppo grosso e niente nella vita e mezzo non c'è vabbè poi avevo proprio qui le giacchette per me per forza metti questo qui no? dove vado questo? è un ciclista ok il giacchettino di pelle preso l'ho preso perchè il mio che utilizzavo da anni mi si è tutto rotto si è tutta screpolata la pelle tutta qui intorno al collo ci ho fatto pure un po' di video ma non so se ve ne siete accorti bruttissimo l'ho buttato sono andata dove lavora mia sorella con lo sconto con lo sconto che ha lei l'ho approfittato e niente adesso abbiamo preso dei cornettini e noi andiamo a fare merenda dalla scuola da mia mamma oggi andiamo a rompere a mia mamma tu che dici amore mio? sono rilassato rilassato? si però non è più detto l'ha telefonata come è stata? si siamo stati una mezz'oretta in videochiamata con la dottoressa del gemelli che praticamente mi ha detto che mi aveva dato degli aggiornamenti sulla situazione trapianto perchè c'è la possibilità che mio padre mi ha detto ne mi di arrene non si sa ancora niente spiega a chi questa faccenda l'ha seguita perchè eri non rimasti che te lo poteva donare tua mamma scorta però poi non si è più potuto te lo poteva dare tuo padre ma poi non si è più potuto invece mi hanno reperto il caso con il papà si perchè hanno accertato da un mesetto a questa parte c'è stata questa opportunità mi sono uscito fuori il mio padre mi hanno contattato perchè c'è la possibilità che forse io ti posso tornare a questa parte quindi mi stavo a dire la dottoressa che devono fare ancora alcuni accertamenti per verificare questa cosa e poi si vedrà non è detto niente noi non ci facciamo la bocca perchè in tutti questi mesi ci abbiamo creduto giusto no? eh si e poi non è stato mai ma non è andato mai a buon fine è stata un po' un'illusione diciamo e quindi non ci volemo credere più di tanto vediamo quello che succede vediamo quello che succede vediamo quello che succede step to step noi comunque vedremo sempre aggiornati per quelli che era tanto affezionati che ci hanno sempre ascoltato hanno sempre seguito la storia e tutto la dottoressa è stata tanto gentile mi ha chiesto come stavo insomma si è pure pure un po' accertate che è stato mio si infatti sia psicologico che fisico ma non stiamo bene vero mo? io stavo una spada a me ritratto dalla salute e niente ora andiamo a fare merendina andiamo buoni a me che Giordano mi mette tutte queste bustine sempre qui in mezzo alle gambe e mi via tutto su ma mi fa niente una fame ma io papà mi fatico perché vuoi casa? è sempre più lontano del posto dove andiamo ma che ho messo un po' ci stanno mettendo in botto arriva e appunto sto dire oh peppa ti peppa ti mamma mia ma come vuoi fare il caffettino vuoi fare il caffettino mamma? eh io posso fare il ginseng è un pazienza però mamma il caffè lo fa buono e niente noi a casa proprio non ci vuole mannà no non me va non mi va Giordano ad andare a casa abbiamo preso un po' di pizzettina perciò ci siamo presi due tre pezzetti di pizza giusto per cenare oh siamo qui dove siamo venuti a pesca ieri a mangiarci un pezzo di pizza come facevamo nei vecchi tempi sto cominciando a vedere che senza programmazione senza niente stiamo ricominciando a fare le piccole cose che facevamo prima in tempo prima sì e sto apprezzando tantissimo perché ho preso tutte le idee del Giordano sì sì è vero e questa cosa mi fa ancora più piacere io già sto reagendo e tutto so io che ti incomincio di più a trascinare nella vita quotidiana non male nelle cose che avevamo perso sia per lock down e se per altre cose comunque fammi vedere questo splendore eppure questa ce l'ho soltata le gambe aspetta aspetta faccio io ah che stai a intrecciare leviti eeeh matto tutto sulle ginsemia tutto sulle bella brustulita dammi bella brustulita mattonna bella 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 buon appetito a noi buon appetito a voi se state vedendo il video mentre state mangiando qualsiasi cosa e noi ci becchiamo direttamente a casa perché questa sera ci sarà grande fratello in più ci avrò qualche bevanda ci assaggeremo qualcosa se non decisa se prendere la gianduglia cioccolata calda Proveremo la gianduglia Dice Giordano Magari domani mattina invece mi farò Un cappuccino al caramel Non potete capire quanto è bello Tornare a casa E non fare praticamente nulla Niente Perché già è pure cenato Abbiamo cenato con i pezzi di pizza Lì dove c'era tutto il mare Cose carine Ci siamo fatti un'ultima passeggiata Molto rilassante Sto benissimo Non rimane adesso che provare la Gianduglia Però tu vuoi il caffè Io sì il caffettino Un caffettino Sicuro? Non è poi dopo si è schizzato no? No che me frega Tu lo prendi la sera Tu eri abituato a stare la sera al caffè Ero abituato pure a bevirmi tre birre La sera Prima Giorgiano Ma invece sono due settimane Guardiamo un po' Poi c'è il frigo E' vero Ancora è stata la birra aperta Che sicuramente è da buttare Perché è svanita Sì Questa è praticamente la birra Che gli avete visto bere Nel vlog Con una buona birra Eccola Eccola Cioè mi ha bevuto un cazzo Cioè a pensare che ho conosciuto Giordano Ne se faceva Tre di quelle Ne faceva Vabbè se faceva soltanto Magari il sabato o sera In tutta la serata che stava in giro Lui andava spasso fino ai 4 della mattina A beve queste birrette Che vedo C'è la faccia C'è la faccia Eh prima è in toro Amor io Mi sono divertito Eh Io mi sono divertito tanto E meno male amore mio Ad oggi Meno male che ti sei divertito Cioè ad oggi te posso dire sì So contento Può le deve essere mai presa la leggera So contento Però però Divertitevi con cervello Con giudizio Con giudizio Mi raccomando Cioè la cosa Proprio peggio Che poteva la cosa Più assurda Cioè più da ragazzo cattivo Che Mi sono briagato E mi sono buttato al mare 4 di mattina Tutto qua Vabbè Mi sono mai drogato Se mi ero drogato Lo dicevo Mi vergogno Mi sono mai drogato Ma anche perché Mi hanno amballato Anche perché Anche perché Se no Una ragazzetta come me Non sarebbe potuta Sta con te Eh non sono tipica Cosa del genere No se io avessi saputo Che tu eri drogato Deci vita vecchia Niente Non c'era verso No Io non mi sono mai fidanzata Con persone Nemmeno che si facevano le canne Pensa Ah giusto Sto alla larga Da quel tipo di persone Ma non perché Per qualche cosa O perché le giurico Proprio perché Non possono stare proprio con me Anche perché So che quelle persone Fanno il circoletto loro Magari si fanno Magari Magari Vanno in posti specifici Solo a farsi le canne Siccome Cioè sto passata Con amici Non è veramente divertente Magari stare lì In una rotonda Dove tutti ridono Se fanno ste canne E tu Non c'entri niente Lì in mezzo Ecco io ho sempre evitato Quelle tipo di persone Perché non c'è proprio compatibilità Ecco E figurati E figurati Se potevo Scegliermi un fidanzato Che facesse quelle cose Non c'entrava niente Con quel genere Mi spiace No Comunque Ah vuoi che tu faccio il caffettino Certo Vabbè Intanto basta spingi un po' Tu Ma io adesso Mi faccio sto caffè Mi faccio sta cosa Che io ancora non ho capito Se devo Se è una bevanda Se è poca Se è un goccio Lo muoviamo insieme Fanno primatturo Perché? Perché se no A fine muoviamo solo Ah Perché ho da beve qua con te Certo Ma io mi vorrei lasciar Beverlo insieme A grande fratello Ma che faccio Poi mi vedi Poi quando guardo Grande fratello Mi voglio di mangiare Magna Eh no No Non basta Oggi Cornettino Pizza Ma a stecchetto Invece magari De sgarrà domani Che è sabato Ho sgarrato oggi E domani Ci toccano Domani pure No però mi sto pure allenando Dai queste cose c'è da dirle Sugli allenamenti Diciamo che sto rimanendo Costante Sul da mangiare Un pochetto abbandonato Perché nonostante Non mangiavo niente Mangiavo correttamente Il peso rimane lo stesso Sarà che sto mettendo i muscoli Sulle gambe Non lo so Comunque poche chiacchiere E guardiamo Qua come si fa Sta giandoglia Poi vi giuro Vi giuro Che non vi romperò più il cavolo Con questa macchinetta E le cialde Però adesso permettetemelo Perché Non si arriva di cialdo Da provare E niente Vediamo Allora Mettiamo Quattro Sicuro? Vado Va bene Cinque tacchi E io che ho in sé quattro Vabbè Non fa niente Dai amore mi Assaggio Dai che mi fido Bollente Non è bollente Non è bollente Mettici i labbra Dai Fuma cazzo Dai non è bollente Quanto è pegnaccio Ma è acquoso Però è buono cazzo Come è acquoso Ma è acquoso Lo devi fare a tre Per me a tre lo devi fare Ma è un po' buono invece Eh ma è acquoso però Di cazzate è acquoso Dai Amore non so di cazzate È leggero È acquoso Buono però Al sapore è buonissimo Il sapore è buonissimo Ti ho detto subito Buono comunque Raga buono Forse c'è ragione Una tacca in meno La so Due tacche in meno L'ho fatta a cinque Io ho fatta a tre A tre A tre Se questo è a cinque A tre È bello denso Sì bello denso È cioccolata Amore Non è cioccolata È gentuglia Sì è cioccolata Ma che ne so E lo scusa E quello mix ciocco 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 mix Che è Eh ma c'è sta latte però Questo qui è base d'acqua Amore mio Ah Dici No c'è scritto latte C'è scritto però C'è base d'acqua Ma vabbè Comunque poi si doseremo Amore A me piace però Ti piace? Leggerino È leggero Perché come dici te Forse è acqua Però C'è il sapore Cioè è leggero Ma c'è il sapore Sì Non è quello lì Che diventa acquitrinoso Che sembra che ti stanno Mangiando l'acqua del corpo No 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 Ti dica la verità Mi dà un sordo di fiducia Quando ho visto la prima volta Piccoletta così Perché sembra Portagliari Piccola piccola No Di un po' che sono mia A Olivia A te è stata Olivia Olivia dei braccio di ferro Soprattutto quelle che hanno Il pirulino sopra Che lo regoli tu a mano Ah Ancora di più Perché lei c'ha la coda Nella rossa ancora di più Però Nella rossa c'è Sembra proprio un po' Perché che c'ha lei C'ha un elastico rosso Lei c'ha una magliettina rossa Ah Magliettina C'ha una magliettina rossa Se non mi sbaglio C'ha Oddio Non mi ricordo C'ha la gonnellina nera O i pantaloni neri Non mi ricordo E la testa è una magliettina rossa E la testa è tonda e nera Col pirulino in testa Guarda quanto è buono Amo quanto è buona Cioè a gianduglia È buonissimo Amo ti giuro è buonissimo Il sapore è quello Della gianduglia proprio Del giandugliotto Del cioccolatino Lingottino C'hai presente? No non mi amo E comunque regà Niente Oggi giornatina così Tranquilla Tranquilla rilassata Ho fatto un po' tutto Un po' tutto Sono contenta che ho trovato Il giacchettino Ho fatto la furba Perché ho pagato molto Molto di meno E niente Non so se domani mettermelo Perché non so se è ancora Tempo del giacchetto di pelle Sì 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 Tocca vedere il tempo domani E anche domani Verrete con noi Perché domani Andiamo a Roma Però La sfiga vuole che Domani tocca andare Per forza a Roma Per una commissione E a sabato A me Non riesce Ad andare a Roma A fare le cose serie Però diciamo Visto che sto a Roma Vado a farmi un giro Da Primark Per dire Che non ci sono mai andata Vado a farmi un giro Da Non mi ricordo No Beh i negozietti Sì E invece Niente Perché sabato Di sabato E tutto io uso Sono contenta Ma comunque Sta sta marca Bella roba Bella robetta Buona Soprattutto Comunque Finito Io mi vado a struccare Vado a fare Mia cosina in faccia Mi metto quella maschera Per idratare il viso Se vi interessa Nero ristretto Sì sì Sito Non siamo pagati Nessuno ci ha detto niente Anche perché Il canale È quello che è Perciò Non siamo sponsor Cose che vi facciamo vedere Cose che vi facciamo vedere Perché li compriamo noi Così a caso Perché magari Per noi Perché magari sto su facebook E vedo Ti consigliamo Perché io ultimamente Ero andata su macchinette Però su ebay Su amazon Così Poi come voi Potete sapere bene Clicchi facebook E non sai come mai Pubblicità Solo su quello A google Ho voluto provare questo sito Perché c'era tutto Quello che mi interessava Tutte ste bevande strane Vabbè raga Comunque Noi vi mandiamo Un grosso bacione Ciao ragazzi E siamo contenti Che anche oggi Ci avete fatto Compagnia E spero che noi Altrettanto Ve l'abbiamo fatta A voi E niente Vi mandiamo un grosso bacio E ciao Al prossimo video